Sono Canon Italia, siamo qui a ISEE ed è un piacere accogliere tutti gli intervenuti a questa manifestazione anche per rappresentare il nuovo line up di proiettori Canon SEED da installazione compatta i proiettori che si basano sulla tecnologia L-COS che garantisce quindi allo stesso tempo alta luminosità e alta risoluzione e alta qualità per tutte le applicazioni dell'imaging. In particolare abbiamo qui presente all'ISE per la prima volta una gamma completa di proiettori da installazione compatti appunto basati su tecnologia L-COS che comprende due proiettori con risoluzione VUXGA e due proiettori con risoluzione VUXGA. Entrappe queste risoluzioni sono declinate in due modelli differenti, uno con un'ottica zoom standard caratterizzata dall'avere una luminosità costante attraverso tutto l'obiettivo zoom quindi non dover perdere luminosità quando dobbiamo installare il proiettore ad una distanza maggiore dello schermo quindi quando siamo in posizione tele come accade solitamente con gli altri proiettori da installazione e invece due modelli caratterizzati da un'ottica veramente rivoluzionaria sono delle ottiche short row quindi per una distanza di proiezione ravvicinata o ultra ravvicinata delle ottiche con un rapporto di riproduzione di circa 0,55 a 1 che permettono in poche parole di proiettare uno schermo da 100 pollici da una distanza di appena 1,2 metri, tutto questo con una qualità determinata dal pannello L-Cos con risoluzione appunto VUXGA o VUXGA.